Rai se non puoi mangiare i bolli, i titoli, i titoli, i titoli, eh lì, poi vanno le statistiche, eh, prima o poi, e cos'è che dicevi? Cos'è che l'hai detto? Buon Natale a tutti da Acqua di Parma, ecco vai in future, sì sì, scusate potete farci una foto a noi 4 che siamo famosi? Grazie. Ah quindi ve la fate tra di voi, tra famosi? No, no, noi tre scusami, con lui che ci chiede la foto. Eh, non la faccio a farla. Adesso schiacci. No, non devi schiacciare. Non schiacciare niente, posso? Basta? Sì, è un video tanto per lui, si fa gli screenshot, perché facciamo, perché noi facciamo, giriamo per Milano a piedi e in realtà per tutta Europa. Aspetta, Omi, puoi farmi una foto con le ragazze che voglio mandare la mia madre? Mi potete anche abbracciare al volo così, una mano qua sulla spalla. Lui è il membro più esaltato della compagnia. Aspetta che mi appoggio a lei così. Perfetto. È andata? Ok. È andata, è andata. No, un drink. Ah no, dove ci consigliate di bere? Eh, dopo questo. No, io non capisco. No, io non capisco. No, e se ne va. No. Ma è un posto, un bar, non è che dovete venire con noi. 20 minutes later. Va bene, andiamo, guarda, io non sai da quanto non vengo in Corso Gomo? No, 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 non voglio andare in Corso Gomo. Da un anno e mezzo. No, no, non ci voglio andare, ma più che altro perché... Vabbè, vogliamo andarci. Ah, da lontano. Vedere, osservare. Ma no, più che altro non ci voglio andare perché... Ah, lei sta ancora qua il mio fan. Bro, tutto bene? Ancora qua da solo? Aia. Come stai aspettando la tipa? Una tipa. Una tipa. Cinque minuti sono qui. Però? Arrivo. Dove sei? Eh, e poi? E poi è un'ora che sono qua praticamente. Eh, noi ci abbiamo messo un po' ad andare a tornare. Abbiamo venuto, avete fatto un bicchierino. Ah, giusto. Dove posso andare? Io, raga, sono di Rimini, quindi non... Anzi. Ah, riminese. Io sono riminese, coronese, virusese. Solo che non so dove andare stasera. Sei di Rimini? Dove devi andare? Con la tipa da qualche parte, per qualcosa. Ah, sperando che arrivi. Guarda, vai là, di là dritto, lo vedrai, c'è un bar ad angolo con tutto viola, mezzo blu, che lo vedi gigante e vai e la porti lì. Tu fai sempre dritto. Prima, Prime. Però prima deve arrivare. Prima deve arrivare. Però se ti risponde vuol dire che ci sono possibilità. No, no, il tram è quello. Però male. Però possiamo sviarvi da lontano. Fate quello che volete, raga. Come si chiama? Ma vi siete mai visti? No, è la prima volta. Ah, eccolo. Ce l'abbiamo, dottore, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Aspetta, non è che è un profilo fake, no? Eh, si vedrà, che ne sai? Buongiorno, braga. Grandi no. Urlo del siiuuuu. C'è lavoro qua, c'è lavoro qua, ma... Comunque, allora fai così, segui noi e magari andiamo un attimo là a prendere un drink. E ci raccontano che mi sono conosciuto. E poi quando hai il messaggio, sono qui, torniamo su. Tanto ci mettiamo un tempo a secondi e dall'altra parte della strada. Let's go. Andiamo. Canto male che vado a bevi con noi, se non si presenta. Io a te la devo aspettare qua. Qua sotto? Eh, vabbè, tanto noi siamo là. Vabbè, a posto. Io comunque sono Marco, piacere. Ciao Marco, Andrea, piacere. Andrea, Marco. Andrea, anch'io. Poi se arriva, se tu fai 30 secondi di ritardo perché sei lì, che non rompe i coglioni. No, 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 no. Cazzo mai andiamo tutti al The Club? Una volta è l'unico posto in cui mi hanno rimbalzato, ormai è stato rimbalzato in una discoteca e qui mi hanno rimbalzato. Grazie, dottor. Diciamo che questa zona non ti porta cura. No, no, no. Effettivamente no. Però... Ma che vada mi aggrego a voi, non lo so. No, vieni, vieni. E così quando arriva ti mandano messaggio. Vieni, vieni, ti seguiamo, ti seguiamo. Poi quando lei è qui, noi veniamo con le videocamere, grazie, Nico. Perché tu fai finta che stanno facendo un... Ma voi cosa ci fate qua? No, che sei famoso. Ah, è la miseria, ho detto. Sì, sono un crypto guru. Lavoro però nel mondo della fine. Con le crypto? No, 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 assolutamente. Grazie. Grazie a... A Big Luca. No, al fenomeno. All'oracolo. Proprio lui. Sì? No. Occhio che è giunta voce che a Big Luca mi fanno una due diligence prossimamente, quindi... Cos'è una due diligence? Esatto, che fanno... Che fanno... Che fanno... Che fanno... Che fanno... Che fanno i suoi business, sono puliti o meno come si mette. Ma chi? Il nostro presidente addospendente. Ah, Matteo Saba. Eh, sono più lui. Conosci Matteo Saba? No, mai sentito. Presidente. Allora, rosso pomodoro. No? Qua c'è l'acqua gratuita, se la vuoi portare a bere. Ma no, vedi, vedi. Perché qua un gin tonico quanto mi costa? 20 euro. Ragazzi, un bel bicchiere d'acqua? Un bel bicchiere d'acqua offerto dal comune? No, no. Sembra strano ogni volta l'acqua, perché sembra che devi inserire delle pillole. O come si dice in gergo, il GHB. Eh, il GHB, esatto. Ma cos'era? Un po' mi preoccupo. Ma tu devi offrirle da bere? È bene, normale, certo. Cazzo, se avevo il microfono ti metti, ti microfonavo. Addirittura. Eh, perché ora ho comprato i microfonini, quelli wireless. Ho detto, ma qua si sente sempre tutto bene. Cioè, non vado in posti... Io ammette di aver abbandonato le tue dirette dopo la quarantena. Dopo la quarantena. Segui. Di Twitch poco. Poco poco. Mi guardo ogni tanto le... Qualche video di Zan, onestamente. Ok. Oppure ti guardi video di YouTube che escono. Sì, sì, sì. Sì, sì. Tanti, tanti hanno fatto così. Purtroppo... Ma questa è la mia fermata. C'è anche il numero uno in Italia. No, non mi piace. Sì, sono già andati in giro? No, siamo andati a bere un drink. Ci sta. Siamo andati a bere un drink, adesso ne prendiamo un altro da sforzo. Anche tu per smorzare un po' l'attenzione con Alessia? Sì. Adesso. Sono avanti al de-plante. Ah, andiamo, andiamo, andiamo. Drink può aspettare. Ecco. Aspetta, aspetta, però prendiamo un metro perché no, sennò... Eh, ecco, magari è arrivato tipo 30 secondi dopo. No, ti seguiamo 30 secondi in lontano. Tanto faccio lo zoom io, eh. Io devo venire in qua. Oh, mi sei stato pulleppato dalla finanza. Ciao, Pea. Aspettiamo il semestre, poi andiamo lì. Ciao, ma... Siamo troppo in hype per questo appuntamento. No, arriviamo prima noi, arriviamo prima noi. Ah, no, tanto non sa che siamo insieme. Esatto. Allora, non parliamoci, non parliamo. Allora, ok. Sì, bro. No, no, no. Adesso comparemo nel tuo... Era tutto un prank. Allora, salato per lì. È lei, è lei. È lei. Ma che cuore, eh. Si è fatto il cuore, si è fatto il cuore. Se avessero dovessero scegliere il conto. È tornato un strano amore. Un strano amore, un civino. Questo è il nostro, è vero, eh. E ora gli facciamo... Come è che si chiamava l'***o? Eh, Simbo. Ma... Simone, Marco? Ottimo. Come è che si chiamava, ragazzi? Marco, Marco. Marco, no. No, no, vai. Marco, no, no, no. Che cosa sta succedendo? Possiamo farci una foto? Scusami, eh. Ti seguo abbastanza. Ok. Ma le faccio io. Anche la volevo... Ok, con il Marcone. Non ti volevamo disturbare, scusaci. Ok. Dai, 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 dai. Andata, andata. Grazie, Marco. Buona serata, uai. Grazie. Da Rimini a qua? Da Rimini a qua, proprio, sì. Sì, 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 sì. Sto siena... Appuntamento. Ah, sai con la tua... Ah, l'apportunata. Sì, sì, un appuntamento proprio questo, proprio... Lei e Alessia, comunque. Molto piacere. Niente, no, niente. Grazie. Grazie, grazie, Marco. Vabbè, ti lasciamo, non volevamo importunare. Non volevamo importunare. Ragazzi, buona serata. Grazie. Noi andiamo anche in unità, ma andremo dall'altra parte del Marcone. Se no, sì, se no si emoziona. Sì, sì, non vi preoccupate. Grazie mille. Grazie, grazie, arrivederci. E fu così. E fu così che l'amore si prese altre strade. Ragazzi, scrivete poi a Marco se ha concluso questo video. Lasciamo Marco così. Una sigla d'amore sotto. Che? Tutta n'anza. Tutto è bene. Poi... Finisce bene. Vabbè, per fidanzamenti organizzati, chiamandici. Non so perché parti da questo. Va bene, va bene. La facciamo a rizzare, che è? Un applauso a Marco, un applauso a Marco, un applauso a Marco. Bravo Marco. Bravo, ingegnere. Grazie.